Bade Mecom per la gestione del conto, al TG delle app basta un clic per cambiare le impostazioni banco posta. Oggi scopriremo come utilizzare la funzione del dettaglio carte tramite l'app banco posta. Iniziamo aprendo l'app banco posta che avremo precedentemente scaricato dallo store del nostro smartphone e dove avremo già abilitato il nostro conto banco posta. Clicchiamo su accedi e inseriamo il nostro codice posta ID. Nella home page selezioniamo la voce conto e poi clicchiamo in alto a destra sull'icona impostazioni e ci ritroveremo sulla schermata del dettaglio dove sarà possibile attivare o modificare diverse opzioni e troveremo alcune funzioni molto utili. Ad esempio abbiamo la possibilità di inviare le nostre coordinate bancarie con un solo clic. Basterà premere invia per condividere su vari canali come mail o messaggistica istantanea. Possiamo attivare o disattivare l'opzione che ci permette di effettuare un bonifico istantaneo o rivedere il PIN della nostra carta se per caso lo abbiamo dimenticato. Possiamo controllare le operazioni periodiche che abbiamo già attivato ed eventualmente disattivarle. Stessa possibilità per le domiciliazioni o per gli addebiti diretti. Possiamo attivarle o disattivarle sempre tramite il cruscotto, così come i versamenti automatici nel savadanaio digitale del libretto Smart. Un'importante funzione è quella di bloccare temporaneamente la carta. Si tratta di un blocco temporaneo che possiamo rapidamente revocare. Possiamo anche abilitare o disabilitare il prelievo all'ATM senza carta. Inoltre abbiamo la possibilità di modificare i massimali di pagamento e di prelievo sia giornalieri che mensili e possiamo abilitare la nostra carta ad essere utilizzata in tutto il mondo e non solo in Europa. Possiamo abilitarla anche ai pagamenti contactless. Altra importante funzione del nostro dettaglio carte è decidere per quali macro aree di acquisti online abilitare i pagamenti. Prima di tutto abilitiamo gli acquisti online e poi clicchiamo su Seleziona categorie dove potremo scegliere cosa attivare o disattivare delle opzioni disponibili. Davvero tantissime funzionalità che ci permetteranno di adattare le nostre carte a tutte le nostre esigenze.